Più che un arrivo era stato un ritorno, lì dove aveva diretto la squadra mobile prima di approdare a Palermo e catturare il super boss provenzano, poi la carriera prefettizia e l'approda vivo alla guida dell'ufficio territoriale del governo. Un'esperienza durata a meno di un anno per Giuseppe Gualtieri Calabrese Doc che stamattina ha voluto salutare gli operatori dell'informazione con i quali ha condiviso un rapporto di stima reciproca. L'8 aprile scorso ha compiuto 65 anni, età che gli consentirà di andare meritatamente in pensione. Dietro di sé tante questioni affrontate in un territorio come quello di Vibo, ultimo in ogni indice di vivibilità. Questa società vibonese che tanti pregi ha e tanta storia ancora oggi non riesce a fare rete, ancora oggi ci sono piccole posizioni individuali che poi diventano dei macigni quando si va a trattare i propri importanti e questa catena porta ovviamente un discredito alla vita politica, un discredito alla vita amministrativa e anche in alcuni casi un discredito a quella vita sociale che qui è stata sempre fiorente, sempre ad alto profilo culturale. Giuseppe Gualtieri lascerà a Palazzo Rizzuti il prossimo primo maggio. Ecco le indicazioni e le raccomandazioni al suo successore. Amare e capire questa provincia perché il problema è come sempre che qui ci sono le personalità, ci sono gli uomini di alto profilo in tutti i settori però tendono non solo a tenersi nascosti ma poi a chiudersi se non gli si fa tirare fuori quello che possono dare. Nel frattempo l'attività istituzionale della prefettura di Vibo sarà retta dal vicario Eugenio Pitaro. Le elezioni europee ed amministrative infatti probabilmente faranno slittare la nomina del nuovo prefetto da parte del Consiglio dei Ministri a subito dopo il doppio appuntamento elettorale. Alessio Buonpasso per la Cineus24.